Il 16 ottobre è uscito per Bonpiani, M, l'ora del destino, che è il quarto capitolo della sua opera sulla vita di Benito Mussolini. E' con noi stasera Antonio Scurati. Ringrazio e saluto tantissimo. Ciao Antonio, benvenuto. Antonio Scurati che di tanto in tanto quest'anno ci onorerà per la sua presenza e mi sono molto felice. Allora, intanto mostriamo subito il libro, eccolo qua, il quarto capitolo della storia, eccolo qua, Bonpiani è l'editore. Sei peraltro appena tornato dalla Fiera del Libro di Francoforte, più importante d'Europa. Quest'anno l'Italia era ospite d'onore, c'erano state le polemiche perché in un primo momento non era stata prevista la presenza di Roberto Saviano, neanche la tua, ci sono state molte proteste, poi era intervinto il governo tedesco a invitarvi personalmente, insomma com'era il clima? Devo rettificare. Prego. Io ero stato invitato e avevo rifiutato, ma prima che scoppiasse la polemica, diciamo, ero stato previdente, avevo rifiutato l'invito e quindi sono andato, invitato dai tedeschi e lo dicevo prima qui dietro, ho scoperto che quelli, in questo paese, in Italia, al momento, su questa terra, sotto questo cielo, quelli come me che declinano l'invito della commissione governativa, per ragioni io penso valide, la mia era molto semplicemente che all'epoca c'era un ministro della cultura, che adesso mi pare che non ci sia già più, se non sbaglio, che pubblicamente si rifiutava di dichiararsi antifascista, io avevo visto un giornalista che gli diceva, forse anche in maniera un po' importuna, per carità, petulante, gli diceva ministro, ma allora lei si dichiarerebbe antifascista e lui si rifiutava, per me questo è sufficiente a non voler far parte di quella delegazione, ecco, quelli come me vengono chiamati dissidenti. Quindi si è andato come dissidente. Cioè così ti dicono, dissidente, una per convincermi mi ha detto, ma no, ma dai scurati, deve essere una festa, su, una festa, siamo italiani, eh, mandolini, eh, ci sono anche altri scrittori non allineati, non allineati, capito, c'è questo linguaggio da guerra fredda, da unione sovietica, vabbè, siete contenti voi così. Senti, questo, in questo capitolo della saga, insomma, del racconto su Mussolini, si arriva a un punto cruciale che è sostanzialmente l'entrata in guerra, l'entrata in guerra dell'Italia, è estremamente interessante questo libro perché, insomma, ci entrerete dentro, non si riesce più uscirne perché il passato e il presente si incontrano come sempre, insomma, il passato torna, capiamo, eh, quel che ci sta intorno adesso, sono, e ci si pone delle domande che sono attualissime, no? Per esempio, la domanda è, Mussolini in quel momento aveva una grandissima fiducia da parte della stragrande maggioranza degli italiani, era acclamato, lui in qualche modo, quando è entrato in guerra, tradì quella fiducia, perché lo ha fatto, cioè perché non ha deciso di starne fuori, perché ha voluto a tutti i costi anche lui, insomma, accodarsi a Hitler e ai nazisti? Beh, resta una decisione talmente sciagurata che per me in parte è ancora circondata da un mistero, non un mistero di quelli, diciamo, lo scoop, in fondo questo è un romanzo, io lo ricordo a chi non conosca la saga, in cui io ricostruisco, aderendo ai fatti, tutta la vicenda del fascismo e con Mussolini al centro, questo libro... La forma romanzo è quello che lo rende poi così appassionante? No, è questo che... La forza vera della scrittura, insomma. Io ti ringrazio, ma il romanzo questo fa, cioè restituisce la vita al suo mistero. Eh sì, certo. Anche quella quotidiana, ordinaria. Allora, qui noi abbiamo un leader, Benito Mussolini, che detiene un potere quasi assoluto da quasi vent'anni e che, come dicevi tu, si è guadagnato dopo aver represso nel sangue ogni opposizione, ogni dissenso, ogni dissidente, si è guadagnato un consenso e è un mito per moltissimi italiani e cose. Arriva un punto in cui è l'ora del destino. Dopo aver predicato per vent'anni che l'Italia fascista era un paese di guerrieri formidabili, l'antica Roma ritornata, pronti a marciare, si trova di fronte alla realtà delle cose. I generali, finalmente, dopo avergli mentito a lungo perché quando c'è una dittatura gli altri sono schiavi, succubi e mentono ai capi, gli dicono, gli mettono di fronte la realtà. La realtà è che l'Italia fascista ha perso il treno per la modernità. Non solo è un paese del tutto impreparato alla guerra, ma è un paese anche industrialmente arretrato. Non solo, è un paese di italiani, un popolo che non vuole la guerra, non vogliono combattere e tantomeno vogliono combattere a fianco dei nazisti di cui loro e lui vedono il volto demoniaco. Mussolini aveva terrore di Hitler, lo ammirava perché ne vedeva la potenza, ma ne era terrorizzato come potremmo esserlo noi all'idea di Hitler sapendo tutto ciò che è accaduto. Ma lui voleva partecipare anche per non lasciare tutto alla Germania? Cioè voleva prendersi parte della torta, tra virgolette, della conquista? Allora, ci sono due componenti. Una è quella che lui, posto di fronte alla scelta tra smentire se stesso e tutto un ventennio di autorepresentazione del fascismo e la realtà delle cose amara, sceglie di continuare a mentire. L'altra componente è questo rapporto di rivalità mimetica con Hitler. Lui era stato il maestro di fascismo di Hitler e Hitler lo aveva preso come modello, adesso i rapporti si sono ribaltati, la Germania nazista è potente, l'Italia fascista si scopre in realtà arretrata e sottosviluppata e lui non vuole cedere questa ipotesi di potenza e commette l'errore più meschino, quello del politicante. Pensate che follia. Mussolini Benito pensa di potersi giocare Hitler al tavolo del tatticismo politico. Pensa di poterselo far su, di lucrare sulle vittorie militari della Germania e di poter in qualche modo giocarselo. La presunzione o incapacità politica? No. Scarsa visione insomma. Mussolini era tutt'altro che un incapace, presuntuoso sì, ma è stato uno dei politici più lungimiranti della sua epoca. Ecco, ma perché non è riuscito a vedere niente di lungimirante in questo? Quella guerra è costata 500.000 morti agli italiani, 500.000 morti. Ce l'ho la risposta, adesso te la do, credo di averla, ma prima facciamo bene a sottolineare questo, questo leader che ancora oggi alcuni, non so come facciano, si ostinano a pensare come a un grande statista, che come io ho detto era tutt'altro che incapace, ma è tanto statista da mandare consapevolmente i suoi concittadini, i suoi italiani a morire e a uccidere attenzione, sempre da invasori, sempre da aggressori e sempre da sconfitti su ben cinque fronti di guerra, pur sapendo che l'Italia non solo non ha i carri armati che sono necessari alla guerra moderna, ma non ha neanche la benzina da mettere nei carri armati, cioè li manda al macello, li manda al macello e ad essere macellai, per che cosa? Il cinismo, Fabio. Questa malattia cronica della politica, il cinismo, che pensa di essere furbo ed è invece la più grande forma di stupidità che si è data agli umani, il cinismo. Il regime fascista è stato un regime feroce, cosa che diciamo sempre troppo poco, feroce, da Matteotti in poi feroce, ferocissimo. E quello che stavi dicendo è l'altro aspetto impressionante che si evince, uno degli aspetti impressionanti che si evincono dalla lettura della tua ora del destino, cioè l'Italia si è comportata da aggressore, feroce aggressore, con una incomprensibile tenacia su cinque fronti, cioè appunto un paese che non ha la benzina da mettere in carri armati attacca la Francia, la Jugoslavia, la Grecia, Albania, la Russia e in Nord Africa l'Egitto l'Impero Inglese. Ma insomma attaccare su cinque fronti non avendo la benzina da mettere è una roba, ma anche che nessuno gli dicesse non si può fare. Allora sembra incredibile, ma io poi mi sforzo, con un grande lavoro anche di documentazione, di raccontare tutti e cinque questi fronti di guerra attraverso degli italiani che si trovarono lì, non uno di meno, tutti e cinque i fronti. Voi dovete tenere presente questo, se guardo il pubblico. Nell'anno del signore 1941 Benito Mussolini, da predappio, dopo aver dichiarato guerra all'Impero Inglese, che all'epoca era ancora l'Impero e alla Francia, in un unico anno, tra giugno e dicembre, dichiara guerra all'Unione Sovietica e agli Stati Uniti d'America. Fa ridere, ma è un riso amaro. Quando Hitler invade la Russia senza neanche informare il suo alleato, ogni volta che si prende un paese gli manda un ambasciatore a cose fatte, perché non si fida degli italiani, nessuno si aspetta che Mussolini dichiari guerra all'Unione Sovietica, perché il patto che ha con Hitler prevede la compartecipazione solo in caso di aggressione, invece lì l'aggressore è la Germania. Lui si affretta, si precipita, dice a Galeazzo Carciano, suo ministro degli esteri e genero, perché il familismo, voi sapete, è una vecchia tavola italiana, dice dobbiamo essere lì. La cosa più importante, prima in furia contro Hitler per aver invaso la Russia, perché vede che potrebbe essere una scelta fatale, e poi dice dobbiamo essere lì. Voglio i miei alpini, io aggiungo scusate, a morire sul Don. Quando il Giappone bombarda per la Harbour nel dicembre dello stesso anno, nessuno si aspetta che l'Italia, non ha nessun obbligo l'Italia di scendere in guerra, ancora una volta l'alleato giapponese è l'aggressore, non l'ha aggredito. Nemmeno Hitler vuole dichiarare guerra agli Stati Uniti, perché non gli interessa, lui interessa il dominio continentale, poi è fuori. Benito Mussolini precede Adolf Hitler nella dichiarazione di guerra agli Stati Uniti d'America. Io metto un documento, come sanno essere gli italiani, quelli umili, che però hanno questa intelligenza dell'umiltà, di un immigrato abruzzese negli Stati Uniti, di ritorno in Italia, che quando sente Mussolini dichiarare guerra agli Stati Uniti, semplicemente commenta, ma c'è mai stato in America quello? La risposta è no, non c'era mai stato in America. Qualcuno si dice che per dissuaderlo gli avesse mostrato l'elenco del telefono di New York a Mussolini, dice lo vede, è questo, era un libro di centinaia di pagine, noi avevamo due pagine, questa è l'America, noi come facciamo? Ma lui andò avanti di… Lui andò avanti e facendo quello, perché non so voi, ma mia madre è nata a Napoli nel 5 ottobre del 1942, sotto le bombe. Un mese dopo a Napoli ci fu un bombardamento, che viene ricordato come la strage di Via Duomo, che fece mille morti in un giorno, le bombe degli anglo-americani. Facendo quel gesto Benito Mussolini attira la sciagura, la distruzione, la devastazione sull'Italia. Ora lui cadde perché quando la guerra ci arrivò in casa, gli italiani finalmente capirono quale abisso di menzogna e di violenza fosse il fascismo. però io ci tengo a ricordare quello che diceva Fabio, prima che noi ci tirassimo la guerra addosso, noi l'abbiamo portata su cinque fronti, sempre da invasori, sempre da aggressori e sempre da sconfitti. Questo è stato il fascismo, è Benito Mussolini. Faccio un'ultima domanda, tanto ricordo che presenterai il libro lunedì 28 ottobre alle 19 alla Fondazione Feltrinelli qui a Milano con Daria Bignardi. Nel 25 abbiamo visto la mostracione di Venezia, andrà in onda su Sky, M, il figlio del secolo tratto appunto dal tuo romanzo. Noi torneremo a incontrarci e a parlare ancora di questo, ma la domanda ovvia che tutti si fanno e si faranno dopo aver letto l'ora del destino è ma perché oggi questa fascinazione ancora? Da dove arriva? Dall'ignoranza? Da che cosa? Arriva dall'ignoranza, arriva dal risentimento, dal senso di rivalsa, dal fatto che quelle radici, molti, troppi e alcuni di questi ci governano, non le abbiano mai tagliate o strappate, però arriva da una cosa più pericolosa, arriva da una cosa più pericolosa che è la stessa che portò al potere Mussolini cent'anni fa e che lo sostenne, è che quando la democrazia va in crisi, perde il terreno sotto i piedi, la passione politica della speranza che ha sostenuto le donne e gli uomini di questa parte di mondo per dieci generazioni dalla rivoluzione francese in avanti, cioè quell'idea che ti dice combatti, lotta, lavora, la vita dei tuoi figli sarà migliore della tua e quella dei tuoi nipoti è ancora migliore di quella dei tuoi figli, viene sostituita da un'altra passione politica, l'unica che è più potente della speranza, di cui Mussolini e Hitler erano maestri, la paura e sta accadendo di nuovo.